Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Gian Paolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e il prorettore dell'Università di Teramo Dino Mastrocola hanno firmato la convenzione per la concessione triennale di tre borse di studio a favore di laureati nell'Ateneo Terramano per lo studio, la ricerca e la produzione dei contributi su temi di interesse del Consiglio regionale rispetto alle funzioni assegnate dall'Unione Europea. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il presidente della Commissione Politica Europea, Luciano Monticelli, ed il professore Andrea Ciccarelli dell'Università di Teramo. Borse triennali per tre studenti meritevoli attraverso un bando che farà l'Università insieme agli uffici della Presidenza del Consiglio non è una novità ma c'è una novità in questa convenzione, è anche previsto la formazione del nostro personale presso questa facoltà altamente specializzata che studia il diritto europeo in rapporto e in ricatuta con la legislazione regionale e nazionale. Una grande attività per la quale anche il Consiglio regionale si va specializzando soprattutto perché abbiamo questa imposizione di rispettare regolamenti e direttive europee. Ma non solo, partecipiamo attraverso la quarta commissione di cui è presidente il collega Luciano Monticelli alla formazione della normativa europea, questo ci occorre e ci serve per fare in modo tale che le nostre imprese, imprese abruzzesi, la nostra cultura, il mondo del sociale ma tutte le attività non trovino una griglia troppo stretta come il ricatuta di normativa europea. Nel corso della seduta del Consiglio regionale è stata approvata la variazione al bilancio che registra una riduzione delle spese pari a oltre 913 mila euro. Rifinanziata la legge per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 per un importo pari a 504 mila euro, stanziati in oltre 100 mila euro annui a favore del pendolarismo degli studenti delle aree svantaggiate. Nuovi fondi in favore delle imprese culturali, mentre 200 mila euro saranno destinati alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara. I consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri, hanno ribadito in una conferenza stampa all'emiciclo la posizione del proprio gruppo consigliare sulla vicenda del maltempo in Abruzzo chiedendo con urgenza la convocazione del Consiglio straordinario richiesto dalle stesse minoranze. Vogliamo fare questo Consiglio regionale prima del documento di programmazione perché ci impegniamo anche noi a trovare le risorse da poter mettere su quei capitoli facendo anche delle rinunce. Per Forza Italia il maltempo ha dimostrato il totale fallimento della macchina organizzativa messa in campo dalla regione Abruzzo. Rimettere a posto la macchina amministrativa che con una riforma sballata che non aveva i piedi per camminare è stata distrutta, rimetterla in piedi, trovare un assessore serio che faccia l'assessore alla protezione civile. Serve quindi il nuovo modello di governance per le emergenze e più risorse per i comuni e le province abruzzesi. Gli stanziamenti sono gli stessi degli anni precedenti. 550 mila euro per dare 100 mila euro a provincia e non dargli la possibilità neanche di comprare il sale credo che non serva a niente. Noi riteniamo invece che dopo l'esperienza, ma insomma non è solo il problema di ciò che è accaduto lo scorso anno, oggi credo che i cambiamenti climatici ci preannunciano stagioni sempre più difficili, sempre più complicati, bisognerebbe fare una scelta. La scelta è quella di intervenire seriamente, distanziare fonti concreti. Rinviata in commissione la legge lavoro Abruzzo proposta dal Movimento 5 Stelle, per Riccardo Mercante lo stop dal presidente D'Alfonso è arrivato pochi istanti prima del voto. Potenziare lo sviluppo delle tecnologie in agricoltura e investire su una connessione più stretta tra consorzio di ricerca unico e imprese agricole abruzzesi. Queste le questioni poste sul tavolo dal presidente della terza commissione, Lorenzo Berardinetti, è divenuto oggetto di confronto tra le associazioni di categoria e i vertici del CRUA. L'incontro, che si è svolto mercoledì 29 novembre, è servito a tracciare un'ipotesi di sviluppo del nuovo assetto dei centri di ricerca regionali. Quattro le azioni che appaiono più urgenti. Accrescere la specializzazione dei ricercatori del Consorzio Unico, individuare nuove commesse nazionali e internazionali, intrecciare rapporti assidui e continuativi con le università abruzzesi e dotazione di certificazioni essenziali per fornire servizi spendibili dalle aziende del territorio. Il presidente Berardinetti ha infine annunciato l'intenzione di inserire all'interno del documento di economia e finanza un capitolo dedicato alla ricerca in agricoltura, che aggiunga risorse utili alla completa definizione del processo di sviluppo di CRUA. La sanità aquilana e il San Salvatore stanno avendo la cura e l'attenzione che meritano. E' quanto dichiara Pietrucci, che invece ritiene paradossale la penalizzazione subita dal capoluogo in seguito al rapporto di lega ambiente sulla qualità della vita. Caccia. Per il consigliere Pettinari sono necessarie azioni di controllo per tutelare fauna e ambiente, contrastando al tempo stesso i fenomeni di bracconaggio.